un saluto agli amici della casa della chiave di milano oggi chiave con telecomando per hyundai santa fe apre chiude perfetto vediamo se accende il motore ecco qui alla grande chiavi hyundai con telecomando santa fe fatte in pochi minuti a milano casa della chiave number one a 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 e a a Grazie per la visione 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 Grazie per la visione